La probabilità di perdere lo scontrino entro tre anni di un oggetto pagato qualche decina di euro oppure di essere distrutto dal tenero animale domestico in cerca di cibo o svago oppure di essere preso a martellate oppure di fare una figura da pidocchioso è sicuramente ritenuta più alta dagli addetti marketing che quella di riportare l'oggetto in assistenza. Quindi la scritta da stampare a caratteri cubitali garantito tre anni è ritenuta principalmente un'ottima leva per le vendite. Fortunatamente la piastra di induzione Enco di Eurospin ha cessato di funzionare solo dopo pochi mesi di utilizzo riducendo notevolmente la probabilità che uno dei suddetti eventi avversi all'utilizzo della garanzia si verificasse. Quindi reimpacchettato il tutto nella scatola originale e munito di scontrino mi sono diretto al punto vendita dove la piastra di induzione è stata acquistata in quanto il marchio Enco è di proprietà Eurospin. Esposto il problema sia in dialetto basso molisano che in italiano per evitare fraintendimenti la piastra è stata ritirata dopo aver riempito alcune scartoffe ed aver ottenuto la ricevuta di presa in carico avvisandomi che sarei stato ricontattato telefonicamente per la riconsegna presso lo stesso punto vendita con tempi non noti né prevedibili. Purtroppo avendo abituato cecchino il gatto a degustare tonno rosso scongelato e scaldato a 60 gradi ho dovuto comprare nel frattempo un'altra piastra di induzione sempre della Enco ma di modello diverso vedi link in alto a destra. Dopo oltre due mesi sono stato ricontattato per andare a ritirare la piastra riparata. Funzionerà? Provo a far bollire un litro d'acqua impostando la temperatura a 100 gradi. Il video è accelerato a 10x Il piano di induzione faceva saltare la corrente e non appena veniva collegata la presa elettrica. Dando un'occhiata attraverso i fori di aerazione si intravede la bobina pulita e brillante e quindi credo sia stata sostituita. Se l'oggetto non presenta evidenti danni accidentali da utilizzo improprio e si ha pazienza usare la garanzia anche per oggetti economici è una cosa fattibile. Grazie per aver visto il video fin qui spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale grazie per il supporto, ciao!